La priorità è uccidere tutti i nemici. All'attacco! All'attacco! Abbiamo perso le tue tracce! Sei a sicuro? No! 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 Nemico in arrivo nell'area! Autorizzare sorvolo di ricognizione UAV in sorvolo autonomia UAV esaurita rientro alla base Settore confermato attaccare qui attacco in corso Nemico illeso, ripeto, nemico illeso Coordinato è trasmesse, fuoco! Qui Fenix 3, attacco in corso Bombardamento fallito Sparare Ultimi dieci, non devi mollare Gas in arrivo, c'è una nuova zona sicura Gas è sempre più vicino Siete rimasti in cinque, vai fino in fondo Gas in arrivo, c'è una nuova zona sicura Gas vi raggiungo Arriva in gas, marco la nuova zona sicura Gas in arrivo Gas in arrivo Gas in arrivo Aumento, nuova zona sicura Gas vi è quasi addosso Una possibilità Gas in arrivo C'è un po' putain Quelle merde Grazie 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 Alla nuova zona sicura Alla nuova zona sicura Alla squadra serve una ricognizione UAV in sorvolo Capo procedere con una ricognizione UAV in sorvolo Capo procedere con una ricognizione Autorizzare sorvolo di ricognizione UAV in sorvolo Autorizzare sorvolo di ricognizione UAV in sorvolo Mi muovo 10 rimasti Si può vincere Il gas si avvicina Nuova zona sicura per voi Attacco a grappolo nemico Arriva il gas Marco la nuova zona sicura Non si può vincere top Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.